Trattare un avvenimento reale vuol dire fare non fiction, ma non come lo farebbe, non come lo tratterebbe un giornalista, non come farebbe la cronaca, ma con i codici della narrativa. Un narratore, uno scrittore, ancor prima che essere una persona che le storie le racconta è una persona che ha le storie interessata, è una persona che le sa ascoltare le storie. Perché quel fatto è degno di essere raccontato e merita la fatica di essere scritto e di essere impostato secondo un'orchestrazione molto complessa come il romanzo? E quali ricadute ha sul mio presente? In che modo, cioè, quel fatto interroga oggi? Come lo guardo questo fatto? In che rapporto ci sono?